SEMI DI PANNOCCHIE Le piantiamo, vediamo che ci si fa Sicuramente non possiamo usarle in mezzi impropri Prendiamo un po' di cane da zucchero Prima o poi mi deciderò a fare l'impianto con i block breaker, giuro Ok Qui qualche pollo è morto per asfissia probabilmente Facciamo diventare ancora più grande la nostra popolazione di mucche Grazie della vostra esperienza E andiamo a vedere, visto che siamo degli ignoranti in materia No, non volevo saltare sul grano Non saltare sul grano Non saltare sul grano Ok Se, 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 se La pannocchia cresce con il coso Soprattutto andiamo a vedere se la pannocchia si cuoce Qua dentro, immagino che si Mettiamoci un boh Ma dai qui qualcosa ce l'abbiamo però, eh Un pezzo di colla ce l'abbiamo Andiamo a mettere un sacco di queste cose Qua dentro, vabbè Brucio uno di questi, pazienza Non moriremo Ma per la scienza questo ed altro Allora, oggi voglio fare l'hopper Che abbiamo visto a casa di quitte E che mi è piaciuto moltissimo Come funziona Quindi facciamo, 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 facciamo Facciamo che facciamo qualcosa Probabilmente Ci servono Dei gear E questo non è il modo per farli Ma è questo Ci serve uno soltanto E lo facciamo di stone Poi prendiamo Otto pezzi di legno e facciamo one chest E poi, 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 poi Non so dove ho messo il ferro Dove ho messo il ferro Beh, non penso averlo usato tutto Oh my god Tutto, tutto, tutto Tutto, tuttissimo Questa cosa è alquanto strana Preoccupante E brutta Che io abbia usato tutto il ferro Eh, ho posato anche tutto quello che mi serviva Tra l'altro Però, vabbè Dai, non ti dolo in giro Riprendiamocelo Ah, mettiamoci lo stone gear qui Se non va del razio Perfetto Allora, dobbiamo cuocere Scusate Il, il ferro Eccolo qui Quindi Ergo Mettiamo L'iron qua E mettiamo un po' di coal Qui dentro Partior dunque Ok, è partito Sta bruciando Ondolo, 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 ondolo Intanto Nella chest Agricola Mettiamo tutte queste cose Poi faremo L'autocraffing L'autocraffing L'autocrafting Giuro Andiamo a piantare sti semi E vediamo che succede Ah, volevo prendere il bomb meal Il bomb meal Ok Il pumpkin Se non ci interessa No, non voglio piantare nient'altro Grazie Oh, guarda che carina Sta crescendo Ondolo, ondolo, ondolo Allora, vediamo se cresce con questa Che cosa sei tu? Ci hai dato una Una foglia Va bene Sei molto carina Quindi ti pianto lo stesso Anche se non so assolutamente cosa fai Invece qui Pannocchie No No, le pannocchie, no E adesso Cosa faremo senza pannocchie? Dove andremo? Il cob o corn? Ma che be... Ma perché dovrebbe uscire di questo colore? Vabbè Poi chiederemo a quit Come funzionano le pannocchie Allora Qui... Qui l'animazione di questo qui non c'è Comunque piano piano ce la sta fanno Questi si stanno caricando Però evidentemente Questo lo condivide No, non cambia assolutamente niente Oh, eccoci dei lingotti Vabbè tanto lo possiamo rompere Anzi non lo rompiamo Facciamo così Facciamo così Dove è finito? Ehi uè Ah qui dentro è finito Va bene Va tutto bene Ok perfetto Questo lo fermiamo perché non sta avendo nessuna capacità Allora se non vado errato Mettendo una chest Dove lo prendiamo la chest? La prendiamo da qua Lì accanto otteniamo Il mondo si è salvato Non siamo morti I magli avevano torto Noi avevamo ragione Vediamo un po' No No Sì dovresti Perché non vai? Dai vai Vai Oh bravissimo Mazza intelligente Ok Ma no scusate ci serviva Sei forse vanno bene Vediamo Hop 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 Gadget Perfetto Abbiamo l'hopper E lo mettiamo qui Eccolo qua E adesso possiamo andare di qua Prendere che ne so Dei materiali tipo Il copper L'iron E Quanto cavolo di alluminio c'è? Il ferrous Puttizzarlo qua dentro E quando avremo abbastanza energia Potremo fare il circoletto vizioso Però in questo caso Potremmo fare anche Già da adesso Perché non scende? Non scende assolutamente nulla Per brindare a un incontro Per brindare a un incontro Oh Sta funzionando No 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 Forse Forse Stai riempendo un po' Troppe cose Vediamo un po' Questo è blu Ah E' così semplice Pensavo Fosse più complesso Invece no 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 Ok Quindi gli dobbiamo dire A questo Arancionati Dove sta mettendo? Boh Facciamo un po' una prova Sì Ah sì 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 Lo sta mettendo qui dentro Ficata Ficata davvero Molto carino Una bella alternativa Alla Industrial Craft Allora prendiamo la nostra Armati di foglia La mettiamo qui dentro Le cose naturali Si stanno accumulando In una maniera Allucinante E nella nostra piccola Ma delicata chest Ributtiamo tutto dentro Un po' Alla casacium Allora Andiamo ancora alla scoperta Per un po' I Da Da Era intorno A Di 2000 Eccoli Li abbiamo visti E facciamo il Sumil Se così si pronuncia Ci serve Ci serve Un machine frame E Come vedete Qualcosa nella vita Ci ho capito Ah Di nuovo Una pannocchia Io Provo a ripiantarla vediamo se stiamo più fortunati vabbè lasciamola crescere poi vedremo si mu 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 allora qui è finito il coal abbiamo del coal cook e direi che a parte tenercene un pochino 5 pezzi ce li possiamo buttare là dentro comunque detto ciò possiamo mettere questa qui andare a prendere il ferro che sta sicuramente fando eccolo qua e fare 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 ma come cacchio? ah giusto è alta però è alta 5 questo posto forse in alcune parti della struttura è meno alta intanto lo dobbiamo chiudere chissà come lo chiuderemo lo scopriremo solo vivendolo indolo 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 di qua facciamo questo strumento nuovo e voi non avete mai visto in minecraft e si chiama ascia quante cose faccio imparare delle cose che non so assolutamente liquid transposer non so assolutamente cosa sia ci serve sempre del legno e ci serve il redstone vatte la pesca che abbiamo fatto qualche centinaio di volte ma va bene va benissimo lo facciamo più che volentieri ok e abbiamo detto del 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 legno allora dove sei? vieni qua no no non questo legno di sicuro questo ok so so mill lo mettiamo qui a questo punto l'uscita la mettiamo di qua perché tanto l'entrata non dovrebbe averla vediamo un po' ma questo lo chiudiamo lo rompiamo non lo vogliamo chiudere gliela facciamo passare dietro questo lo rompiamo e il flusso di corrente dovrebbe arrivare anche qui perfetto si sta caricando ondolo 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 davvero una figata sto cosa che ci ha dato il ferro's dust vabbè e qui ci ha messo sei pezzi di legno oh ottimo non avremo più problemi di legno non ho ancora ben capito che cosa ci si fa con l'eccesso quella roba là mettiamoci questo musica inquietante e qui dentro del copper e del ferro ora bisogna stare attenti che questo tende ad esplodere mi dicono dalla regia e visto che è giorno andiamo da quittolo a rubargli ben precisamente dove le abbiamo messe qui tre quindi ce ne servono cinque andiamo a rubargli piton 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 oh un Kriper giusto non ne abbiamo mai incontrati in questa serie mamma mia vado a esplodere devi morire grazie di tutta la tua esperienza oh ma vogliamo fare la cosa incantata così ci ci incantiamo qualcosina dai 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 op 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 vorrei capire perché al buon quit io ho rotto quest'albero qua cioè questo albero ah no gliel'ho tolta mi dispiace non c'ho niente da rimetterti sorry toc toc ho controllato e me ne man ne ho scusate ne ho tre te ne rubo 5 è giusto grazie mille 1 2 3 4 5 cosa avrà fatto eh figata bellissimo e la lava da dove la prendi? questo è davvero interessante nella thermal ehm nella thermal aspettate prima che io dica una cavolata andiamo a vedere magma sì 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 vita con il magma crucible torno a casa prima che diventi notte grazie ancora ci ha evitato da andare a farmare mostri per tutta la per tutta la puntata e con farmare mostri intendevo esplodere ovunque e comunque ne ho presi 8 sì non farò ok niente figure barbine ogni volta che passo di qua dico adesso prendo quella quello strumento lo scopettino e vado vado a prenderlo e invece niente cervello spada no vabbè spada chi se ne frega io devo smettere di fare gli strumenti di ferro me lo ricordate per favore che sono impaccato di gemme uh gli alberi ancora il bombile appresso no e vabbè entriamo dentro casotta e facciamo quello che dobbiamo fare allora la filosofa non c'è c'è l'inert stone no inert che si fa con oro stone e gold quindi oro stone e gold ci manca la stone prendiamo della però no qualche cosina di stone eccola qua infatti oro oro stone e gold ho detto mio dio ah santa pace è la stanchezza ragazzi io lavoro tutto il giorno si vabbè dobbiamo la scusa al lavoro e non alla confusione mentale perfetto abbiamo l'inert stone la mettiamo ca dentro e facciamo la minimum stone e che cacchio fa la minimum stone e zoom non funziona no oddio lì a sinistra suggeriva un cubo di cobblestone funzionati ah una crafting table e se metto dentro del legno mi da un bottone giustamente del copper mi da questo vabbè ok qualcosa che non si boh vabbè è una crafting table portatile però non capisco come mai come mai come mai very strange oh bistec oh ma carichi il mio mondo quello degli altri lo carichi che sei un cosa è un tizio parziale questo cambia l'albero questo non cambia niente non voglio rompergli il cavolo quindi me lo vado a guardare questa cosa a dopo è un tizio parziale è un tizio parziale